Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore. Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. Il giorno più bello? Oggi. L'ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L'errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. L'amore comincia a casa. Prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. L'amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole. Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente. La fame d'amore è molto più difficile da rimuovere che la fame di pane. Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare. Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d'oggi. Cominciamo. Ho scoperto il paradosso che se io amo fino a che fa male, allora non c'è dolore, ma solo più amore. Sappiamo che, se vogliamo veramente amare, dobbiamo imparare a perdonare. Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. Io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire. Spero solo che non si fidi troppo di me. È necessaria l'infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene. Dovreste conoscere quello che vuole dire povertà. Forse la nostra gente ha molti beni materiali, forse ha tutto, ma credo che se guardiamo nelle nostre case, vediamo quanto è difficile talvolta trovare un sorriso, e un sorriso è il principio dell'amore. Allora incontriamoci con un sorriso, perché il sorriso è il principio dell'amore, e una volta che abbiamo cominciato null'altro ad amarci, diviene naturale fare qualcosa per gli altri. Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza, senza sentirsi migliore e più felice. L'aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può uccidere il suo stesso figlio, cosa impedisce che io uccida te e tu uccida me? Non c'è più nessun ostacolo. Morire è tornare a casa, eppure la gente ha paura di quello che può capitare, e allora non vogliono morire. Se nella morte non si vede alcun mistero, allora non si ha paura di morire. C'è però anche il dubbio di coscienza, forse avrei potuto fare meglio. Quasi sempre, si muore come si è vissuto. La morte altro non è che continuazione della vita, completamento della vita. È il corpo umano che si arrende. Ma il cuore e l'anima vivono per sempre. Non muoiono. Ogni religione crede nell'eternità, in un'altra vita. Questa vita non ha una fine definitiva. Quelli che credono che la vita finisca per sempre temono la morte. Se a questa gente si spiegasse bene che la morte altro non è che tornare nella casa di Dio, non ci sarebbe più paura della morte. Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Ciò che stiamo facendo è solo una goccia nell'oceano. Ma se quella goccia non fosse nell'oceano, credo che l'oceano sarebbe più piccolo a causa di quella goccia mancante. Non sono d'accordo sul modo di fare le cose alla grande. Non permettere a te stesso di essere scoraggiato da qualsiasi fallimento, fin tanto che hai fatto del tuo meglio. Non aspettare che arrivino i leader. Fallo da solo, persona per persona. Noi siamo stati creati per amare ed essere amati. Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è davvero infinito. Non importa chi dice cosa, tu devi accettarlo con un sorriso e fare il tuo lavoro. Tutti hanno qualcosa di buono dentro di sé. Alcuni lo nascondono, altri lo negano, ma c'è. Oggi la gente ha fame d'amore, ha fame di comprendere l'amore più grande che è l'unica risposta alla solitudine e all'estrema miseria. Ecco perché possiamo andare nei paesi ricchi dove nessuno ha fame di pane e vedere la gente che soffre in maniera terribile per la solitudine, la disperazione, l'impotenza, la mancanza di prospettive. Se non puoi nutrire un centinaio di persone, allora nutri ne solo una. L'India brucia come l'inferno, ma le sue anime sono belle e preziose perché il sangue di Cristo le ha irrorate. Ogni opera d'amore, compiuta con tutto il cuore, porta sempre la gente più vicina a Dio. Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca parlerà, la mente penserà. Se vogliamo che un messaggio d'amore sia udito, spetta a noi lanciarlo. Se vogliamo che una lampada continui ad ardere, spetta a noi alimentarla ad olio. Ancora più che il pane, l'uomo desidera la compagnia. L'umiltà altro non è che verità. Che cosa abbiamo che non ci sia stato donato? Se abbiamo ricevuto tutto, quale bene resta in noi di nostro? Quando arriveremo a convincerci di questo, non alzeremo più la testa per orgoglio. Se sarai umile, niente più ti toccherà, né l'ode nebbiasimo, poi che tu sai che cosa sei. La gioia è molto contagiosa, quindi, siate sempre pieni di gioia. La fede che passa all'azione diventa amore, e l'amore che si trasforma in azione diventa servizio. Dovete andare avanti senza qualcosa che vi piacerebbe, perché il vostro dono abbia valore agli occhi di Dio. fa navi e per jurisdictions, nel centro giro. Grazie.